Continua ogni giorno a dire che tanto gli ospo non funziona, che qua tra le location non funziona, che quindi l'Italia è sola, che quindi non serve a niente, che non serve a niente, va contro l'interesse nazionale, non va solo contro l'interesse europeo, perché l'interesse nazionale è di fare delle frontiere esterne, noi siamo, il nostro paese è una grande frontiera esterna, noi siamo una grande frontiera esterna, di continuare a lavorare perché quello diventi una questione di interesse comune europeo, con un raffortamento del ruolo di Frontex, con la creazione di un corpo di polizia europea. Dall'altra parte anche un regime d'asilo europeo comune, ecco il dibattito su Dublino, anche su questo, è stato durissimo convincere, ma è stato durissimo convincere i nostri funzionari, non i governi degli altri paesi. Io mi ricordo quando abbiamo iniziato il programma del semestre di presidenza, quando dicemmo, dobbiamo porre il tema di superare il Dublino, ah, dimenticatelo. No, dobbiamo porre il tema del superamento di Dublino, no! Mare Nostro deve diventare un'azione europea, no, è possibile. Cioè, questa è la ragione per cui la politica europea ha bisogno di politici che la fanno, e lo dice un ex diplomatico e lo dice un ex funzionario europeo. Perché? Per queste vicende tu hai bisogno della politica che si prendi il coraggio di ridefinire il contesto, di ridefinire il quadro, non di rimanere nel quadro dato e di cercare di spostare il caselline all'interno del quadro dato. E questa è la differenza. Noi stiamo facendo politica europea, perché abbiamo detto sin dall'inizio, noi dobbiamo rivedere Dublino, anche se nel contesto in cui lo dicevamo, sembrava impossibile porre il tema. Tra qualche settimana la Commissione europea presenterà una proposta per rivedere Dublino. Come lo rivediamo? Cosa facciamo? Ma è evidente che dobbiamo sbussare, ammorbidire, il tema del Stato di primo approdo, Stato unico responsabile. E dobbiamo costruire un sistema di redistribuzione dell'ordine. Preoccupazione e irresponsabilità della campagna interna. Preoccupazione europea. Dato che l'accordo temporaneo fatica a funzionare e dato che l'accordo temporaneo che abbiamo ottenuto in ottobre ha tutti gli elementi, i semi dell'accordo permanente, della politica permanente che noi vorremmo realizzare, il fatto che quell'accordo temporaneo non funzioni rende il negoziato ancora più difficile. Perché gli hotspot che stiamo facendo, la questione delle frontiere esterne è evidente a tutti che va rafforzata, ma il fatto che la redistribuzione dei rifugiati non funzioni, perché non sta funzionando, e questo non è propaganda di governi o articoli sbagliati, questa è la verità, è chiaro che questo rende più complesso il negoziato che noi ci accettiamo a fare sulle proposte di revisione di Rubino. Perché chi si è opposto finora dice, ma insistete, avevamo detto che non funzionava per i 160.000 rifugiati, adesso voi ce lo volete fare in maniera permanente con nuova politica dell'Unione Europea. Quindi è un negoziato difficile, ma è un negoziato che dobbiamo assolutamente affrontare, perché è l'unica via, non ce ne sono altre. Non possiamo semplicemente rispondere raffortando Schengen nella sua dimensione di sicurezza delle frontiere esterne, se non abbiamo anche un sistema d'asilo comune, che vuol dire anche andare oltre la direttiva accogliente, la direttiva procedure, andare oltre con gli standard minimi, che oggi non sono sufficienti perché ancora le procedure di asilo sono troppo diverse tra gli stati, durano troppo in alcuni stati, quindi anche con questa convergenza, per rendere uno standard comune è la cosa che noi dobbiamo fare, noi dobbiamo fare il mio spot, noi dobbiamo migliorare, lo stiamo facendo, abbiamo raddoppiato le commissioni di asilo in Italia. Questo è il contributo che è necessario e che ci dà anche credibilità nella costruzione. Penso di avere risposto.